Scoprire il territorio e il suo paesaggio a piedi è lo scopo del concorso Il Paesaggio Vien Camminando, la cui premiazione si è svolta al Salone del Libro di Torino. Hanno vinto la scuola di infanzia Don Campagna di Avigliana, la primaria Cesare Battisti di Pinerolo, la secondaria di primo grado di Candiolo, al secondo posto la scuola di infanzia Villa Genero di Torino, la primaria Edmondo De Amicis di Luserna San Giovanni e la secondaria di primo grado Silvio Pellico di Pinerolo. Terza piazza per la scuola di infanzia Santa Margherita di Torino, la primaria Carlo Ignazio Giulio di San Giorgio Canavese e la secondaria di primo grado Filippo Brignone di Pinerolo. Il concorso è l'innovazione di A Scuola Camminando che per 11 edizioni consecutive ha diffuso con successo fra i bambini e i ragazzi una modalità sostenibile di spostamento tra la casa e la scuola. Quest'anno hanno partecipato 24 istituti scolastici presentando 27 progetti. Il paesaggio Vien Camminando è una delle sezioni del premio incubatori di Green Education promosso dalla regione Piemonte in collaborazione con i ministeri dell'università e dell'istruzione e dei beni e attività culturali del turismo e con la città metropolitana di Torino. Il concorso è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine grado per valorizzare e stimolare percorsi didattici sui temi della sostenibilità e della Green e Circular Economy. Nel nostro progetto i bambini sono stati cittadini attivi, hanno attivamente cercato di rielaborare e riqualificare dei micro spazi del territorio. Abbiamo appunto preso in carico, per cui ci siamo presi cura, di un sottopasso pedonale dove i bambini passano tutti i giorni facendo il piedibus. Per cui il comune ha collaborato dando il bianco e noi abbiamo realizzato un murales ispirato alla musica e all'arte e nel mese di giugno faremo l'inaugurazione. Abbiamo anche preso in considerazione un'altra zona più naturale che è un sentiero, il sentiero del fiume Messa e cercheremo di renderlo più visibile e più conosciuto alle persone del territorio. Il progetto Il paesaggio viene camminando è stato sviluppato da entrambe le scuole dell'infanzia Villa Genero e Santa Margherita con esperienze esplicitate di mobilità sostenibile con l'utilizzo dei mezzi pubblici, sia pure una realtà collinare oppure l'utilizzo della mobilità a piedi e poi la valorizzazione delle esperienze di educazione ambientale che coinvolgono a 360 gradi la didattica delle scuole dell'infanzia. Grazie